Ciao, tutti e benvenuto a consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Voltime per quanto riguarda il Nasdaq. Allora, c'eravamo lasciati, facciamo un riepilogo. Il minimo del 5 da 20 giorni che era previsto a suo tempo per il 19 di novembre è evidente che il mercato manco se ne è preoccupato, giustamente ha fatto il mercato e quindi ha continuato la sua fase rialzista. Il trend in fondo era corretto, però quantomeno una pausa su base ciclica c'è uno. Ce la dobbiamo aspettare, tutto ciò non è avvenuto e vabbè, pace ama il mercato e è continuato a salire. Metto solo un attimo le medie mobili perché vedo che non ci sono. Il mercato non è mai, mai dico mai, andato sotto le medie mobili cicliche, come ho già detto da un po' di analisi a queste parti, le aggiungo perché se no mi fanno commenti, a parte essere dei idioti, ora capisco anche che non ci arrivino in quanto non conoscenti del metodo. Mai sceso sotto, mai andato sotto le medie mobili cicliche, quindi non si è mai verificato un segnale short, come dico sempre, nell'analisi ciclica si prendono gli stop loss, poi lasciamo perdere quando si fanno le cazzate come ho fatto io alla fine del mese, proprio l'ultimo giorno del mese, ma seguendo perfettamente il metodo si perdono delle opportunità nella maggior parte delle volte in cui il mercato non rispetta la statistica, che è difficilmente se prende uno stop in questo caso qua. Mercato mai sceso sotto, andare short è sbagliato, soprattutto perché la distanza delle medie non è sufficiente su base statistica per cercare dei rimasti. Forse, forse adesso sì, perché se guardiamo una distanza dalle medie mobili cicliche, parlo di queste tre qua, lasciamo perdere a quella del ciclo, forse, forse possiamo definire che potremmo essere nei pressi di 100 punti, vado a vedere quelle più lontani chiaramente, 98 punti e solo durante le fasi di rialzo, non di certo di ribasso, ma il 60 fa proprio poco. Questo genere di cose non si può fare con le cripto dove un giorno hanno una volatilità a 1 e il giorno dopo a 80, quindi le cripto non hanno praticamente nulla di statistico di prezzo, infatti a un momento hanno ragione a quelle che dicono 100.000, 400.000, 1 milione, perché tanto dal punto di vista prezzo statistica zero, invece gli indici, cioè un po' tutti gli altri strumenti sono misurabili da questo punto di vista. Andiamo a vedere, siamo intorno ai 100 punti di distanza dalla media, potete immaginare un ribasso, qua siamo a 90, siamo quasi arrivati, quindi è abbastanza fisiologico che il mercato vada a rompere in massimo assurdo, anche se il future in realtà è un po' più lontano rispetto a questo che è il cash. Da un punto di vista ciclico, andiamo anche a fare chiaramente un'analisi ciclo per ciclo, che da qualche analisi ho preso l'abitudine di mostrare anche qua nelle analisi gratuite, vado solo a sistemare il ciclo da 20 giorni qua, il ciclo da 40 giorni, che è rimasto ovviamente, non si è ancora chiuso, quindi è corretto, e il successivo ciclo da 20 giorni, anche se prematuro, lo andiamo anch'esso a sistemare, mannaggia, ho sempre dei livelli che rampano le balle e non mi impediscono di cliccarci sopra, vado a mettere un po' più wow, ok, e anche questo lo andiamo a posizionare qua. Diamo uno sguardo ai cicli di fondo, quindi togliamo tutto, e analizziamo i cicli uno per uno. 54 mesi è la nostra fase di ribasso, lo vediamo, se stringiamo lo zoom dovremmo essere un po' in grado, dubito, di avere uno sguardo, ovvio così non ce la facciamo, di quello che è l'andamento. Andiamo a vedere, io metterei anche solo un 18, tralascio il 36 mesi, il 18 mesi è nella nostra fase di ribasso, quindi ne abbiamo già due che sono ribassisti, 54-18 mesi, facciamo anche un'analisi solo con, sta cacchio di lavagna, il 40 giorni, 40 giorni è fase di rialzo, quindi in realtà sta elidendo un ciclo, in questo modo riusciremo a capire anche qual è la dominanza, cioè il mercato, quale tipologia di cicli sta seguendo il momento, sta seguendo più i cicli piccoli, sta seguendo più i cicli più grandi, perché non è vero, è una stupidaggine che afferma chi, A usa un'analisi ciclica che non è corretta, B, chi non conosce, l'analisi ciclica non è vero che un ciclo da 54 mesi ha più peso di un ciclo da 20 giorni, per fare un esempio, dipende in quel momento qual è il ciclo dominante, ok? Andiamo a vedere un ciclo da 20 settimane, quindi leviamo il 40 e mettiamo il 20, anch'esso in una fase di rialzo, però è quasi arrivato, in realtà, l'80 giorni, è uguale, vedete, identico al 20 settimane, fase di rialzo, quasi arrivati, anche in questo caso, vicino al picco, andiamo a vedere il 40 giorni, anch'esso fase di rialzo, c'è ancora un po' di spazio dal punto di vista operativo, e ricordiamoci che non fino in cima un ciclo lavorabile, su base statistica più o meno questa zona qua, ok? È già una zona dove ci possiamo aspettare, c'è un passaggio da rialzo a ribasso, fermo restando che c'è sempre la varianza da valutare, se guardiamo anche la durata dei cicli, a volte vi diventi così dirvela, lo vediamo che più o meno regolarità c'è stata, questo ciclo qui, questo qua, questo qua sono simili, abbiamo una bella differenza in questo ciclo, da 40 giorni, e questo qui che è molto simile a questo qua, noi facciamo una sorta di media per proiettare un punto d'arrivo, ovvio l'indicatore che cosa fa? Ci va a proiettare nel futuro, per ogni singolo ciclo, la durata media, in questo caso la durata media, dicevo 2023, 10 anni, quindi la durata media è 37 giorni, quindi andiamo a vedere adesso il ciclo da 20 giorni, ok, già possiamo capire una cosa, vedere una cosa, il ciclo da 20 giorni il mercato lo sta ignorando, il ciclo da 40 giorni no, perché come possiamo vedere, sì, anche il ciclo da 40 giorni, quindi cosa ha fatto il mercato? Ha ignorato i cicli più piccoli, e quindi se noi dovessimo fare un'analisi, da un punto di vista operativo, dovremmo fermarci a questi cicli, quindi un'analisi basata su 54, 18, 40, 20, 80 giorni, questa è la curva, la sinusoide ciclica, la sommatoria ciclica, la linea composta, che dobbiamo utilizzare, dovremmo utilizzare sul DAX, per poter lavorare, perché è evidente, come allo stato attuale, in un ciclo da 20 giorni, un ciclo da 40 giorni, nel mercato, non gliene frega nulla, e questo genere di lavoro, si può fare solo, con un prodotto automatico, nonne, e con un'analisi manuale, dove è totalmente impossibile, identificare questo genere, di dominanza dei cicli, in maniera semplice, e immediata. Andrei anche a valutare, loro 80 giorni, ok, non abbiamo altre trendline, da tracciare, queste qui ormai, ci rileviamo dalle bale, che avevano dato il via, comunque al rialzo, la rottura delle varie trendline, ribassiste, prima di andare avanti, come sempre, ti chiedo di mettere un like, quindi vai sotto, clicca like, iscriviti al canale, e torna a vedermi, ogni singola analisi, che posto, in modo tale, che poi tu possa anche, mettere dei commenti, positivi o negativi, non me ne frega nulla, però con una logica, non che, non vedi l'ora, che succede qualcosa, di sbagliato, puoi poter mettere, un commento negativo, se sei minimamente, una persona intelligente, cosa che mi auguro, anche per te, e, guarda anche, tutte le analisi, e allora, se poi l'analisi, è completamente sbagliata, tra l'altro, una delle mie caratteristiche, è non è andare, a correggere l'analisi, per far quadrare i conti, mai, la mia analisi ciclica, non è, dopo ti dico, cosa hanno fatto i cicli, te lo dico prima, e se è sbagliato, è sbagliato, punto, e quando è sbagliato, l'ho sempre ammesso, ovvio, per dire che è sbagliato, le analisi, deve essere sbagliate, quindi deve essere data fuori, completamente, dalla statistica, noi comunque, andiamo a rimettere, il ciclo da 40-20 giorni, però sappiamo che, lo abbiamo visto, i cicli da 40-20 giorni, al momento del mercato, non li considera, cosa che invece, lo vediamo, ha fatto, nel recente passato, perché questi qua, sono cicli da 40-20 giorni, e il mercato, rivediamo che, ha fatto comunque, dei movimenti, dell'ordine della grandezza, di un ciclo da 40-20 giorni, qua no, qui lo ha saltato, completamente, questa fase ribassista, di un ciclo da 20 giorni, quindi, è idem, per quanto riguarda, un ciclo da 40 giorni, mai fatto nulla, qui doveva già, teoricamente, fare una componente di rialzo, che non l'ha fatto, ecco che, abbiamo capito che, in questo momento, ciò che domina il mercato, sono cicli, da un 80 giorni, un 20 settimane, lasciamo stare quelli più grandi, che non ci interessano, per un'operatività daily, quindi, nell'ordine di 4-5-6 giorni, che non stanno però, dominando il mercato, prima di passare, ai livelli di prezzo, e mi auguro, che questa analisi, sia interessante, come la sto, approntando, e ti invito, chiaramente, a visitare il sito, il tradingpertutti.com, mi raccomando, iscriviti al canale, Telegram gratuito, perché, da lunedì, avrai la possibilità, di partecipare, ai 30 giorni, un mese, al netto delle vacanze, che quindi, aggiungerò a quei giorni lì, di prova, del servizio, intraday, di segnali, sul forex, solo sulle valute, e dopo, chiaramente, il mese, avrai modo, poi, di decidere, se, abbonarti, al premium, che costerà, 49 euro, quindi, al mese, quindi, anche in questo caso, cifra popolare, sempre se poi, il servizio, lo aprirò, l'idea è quella, di aprirlo, perché mi sta dando, ottimi risultati, il forex, intraday, è da mesi, che la sto, applicando, la metodologia, e, però, non ho ancora idea, se, chiaramente, andrò, ad aprire, il servizio, oppure no, ti invito anche, a valutare, il servizio, segnale intraday, sul dax, e sul nasdaq, venerdì, giovedì, l'ultimo giorno del mese, ho fatto, una cazzata mondiale, tre trade, che non dovevo fare, sul nasdaq, perché, da scemo, mi sono, fatto condizionare, da tutti gli altri indici, sono 16 anni che sono sul mercato, ogni tanto, qualche cazzata la faccio, tutto saliva, ciclicamente, sul 5 minuti, era long, da scemo, ignorato, l'H1, che aveva un segnale, short, perfetto, e sarebbe stato, un trade, della madonna, io invece, ho letteralmente, per tre volte, tradato long, i livelli, e, perché il mercato saliva, tutti gli altri mercati salivano, pace e amen, poi di sera, ho recuperato il 70% della discesa, io ormai, avevo chiuso i rubinetti, e ho preso il tre stop, chiuso il mese di novembre in perdita, dopo un bel po', abbiamo chiuso il mese di novembre in perdita, pace e amen, vuol dire che il trimestre, al momento è ancora a zero, l'anno ancora super positivo, a dicembre, devo fare, spero, mi auguro di fare del profitto, per recuperare, il, sostanzialmente, il mese di novembre, quindi avere un mese di, un trimestre positivo, indicatore a volte, a me lo vedi, ti permette di fare analisi intraday, e anche multiday, in maniera iperveloce, isolare tutti i cicli, andare anche a definire, quella che è, l'onda ciclica, perfetta, cosa vuol dire, andando a togliere, e aggiungere cicli, non per fatto bisogna averli tutti, avrei accesso anche a canali telegram, di supporto, dove persone come me, anche il Giovanni, che è uno dei più attivi, postano le proprie operazioni, i propri trade, e nel momento in cui, li stanno per fare, e quindi puoi anche, averne un, da punto di vista educativo, prenderne spunto, e avrai anche accesso, ai video formativi. Dicevo che si può anche definire, un'onda ciclica, non per forza, con tutti i cicli, ok? Quindi in che maniera? Togliendo e aggiungendo, i vari cicli, cercare di ottimizzare, il più possibile, quindi rendere il più possibile, giusta il passato, e avere quindi, un futuro predetto, nel modo corretto, tipo ad esempio, non è detto che debba averceli tutti, posso andare a levare, sto facendo adesso, degli esempi, ecco in questo caso, ho tolto il 27 vani, lo vediamo come sia più, andiamo un po', aggiungendo 20 giorni, in questo caso, ditemi se non è corretto, tolto il 40 giorni, tolto il 20 settimane, lo vediamo come la sinusoide, è molto più precisa, e quindi questa proiezione nel futuro, potrebbe essere quella più corretta, perché vediamo che, sostanzialmente abbiamo tutti i cicli, che si vanno a sistemare, in maniera corretta col mercato, quindi vuol dire, che abbiamo una tendenza, una media ciclica, che è molto precisa, ed ecco che questo potrebbe, in realtà essere, il migliore, la miglior configurazione, da un punto di vista, dell'onda sinusoidale, per poter iniziare a cercare, una determinata situazione, una determinata operatività, quindi questo indicatore, è veramente anni luce, avanti a qualsissima metodologia, di analisi ciclica, perché permette appunto, di poter lavorare, in maniera molto smart, come ormai si dice, quindi in maniera intelligente, con l'analisi ciclica, scusate, mi è venuto su Atisal, andiamo a vedere su TradingView, sta durando un po' a questa analisi, però credo che sia molto interessante, anzi ti invito, a mettere un commento sotto, e darmi confermo, quindi andiamo a prendere il DAX, quindi che cosa abbiamo detto, da un punto di vista ciclico, manca al picco, mancano, eh lunedì sarà il 4, non mi ricordo più, lunedì sarà il, lunedì sarà il 4, perfetto, quindi mancano un paio di giorni, e qui abbiamo tutta la serie, di picchi, 20 giorni, 40 giorni, e 20 giorni, quindi questa è un'area, dove ci dobbiamo aspettare, la possibilità che il mercato inverta, ovviamente con una candela del genere, c'è il segnale short, no, in risposta a un utente, che dice che tutti, e proprio ha sottolineato, che tutti, tutti, tutti i miei video, dico che sempre dobbiamo aspettare, e non è vero, se io ho una candela così, non vado short, e soprattutto in multi day, non è che ogni giorno, si entra a mercati, in multi day, analizzando il DAX, una, due, operatività, opportunità in un mese, non di più, ma non di più, basandomi su massimi e minimi ciclici, attenzione, poi qua dentro, uno può fare quello che vuole, in questo caso, non abbiamo ancora, potremmo andare a mettere un 10 giorni, minimo 10 giorni, minimo 10 giorni, questa trendline, la togliamo, questa la mettiamo qua, questa la mettiamo qui, e abbiamo un minimo 10 giorni, allora, al momento siamo vicini a un picco, uno vuole andare long, ci può anche andare, rottura dei massimi assoluti, si può andare long, sicuramente, abbiamo ancora qualche giorno a disposizione, personalmente lo farei no, a me può farsi anche 50.000 punti, non mi interessa, io long in questa situazione, cosa che invece qua avevo detto, che ormai si poteva chiaramente rientrare, anzi avevamo detto, che si sarebbe probabilmente saliti, perché ormai la fase ciclica e ribassista, l'aveva saltata, ma in questo caso no, il prossimo long, noi al momento attuale, lo potremmo andare a prendere in considerazione qua, intorno al 13 di dicembre, su questa componente, qualora il mercato rimanesse sopra, alla media immobilio ciclica, in che maniera, continuando la sua salita del cavolo, che non ha logica di esistere, ma c'è, oppure piantandosi in laterale, per poi, e quindi accumulare, per poi una ripartenza, al momento, per come siamo posizionati, dobbiamo ovviamente rimanere in attesa, poi ognuno può longare qua, ognuno li vuole fare quello che vuole, io dopo un movimento, senza mai un ritraccio di, 2000 punti praticamente, 1900 punti, mi arrivo sui massimi assoluti, che sono 1980 punti, cosa faccio, entro long sul break, dopo 1980 punti di rialzo, saltate tutte, ma proprio tutte, le strutture statistiche, ognuno li vuole farlo, io no, io aspetto che il mercato rompa, e ritracci, visto che però, siamo vicini a un massimo ciclico, è ovvio che adesso, si debba attendere, che cosa, eventualmente rottura, e rientro per uno short, ok, quindi quante giorni saranno, due, tre, sei, sette, non lo posso sapere, oppure rimbalzo, in questo caso, andremo a vedere, su trade in view, quella che potrebbe essere, un'area di volume, per poter entrare short, in ogni massimo, io credo che, questo livello, potrebbe essere un primo livello, che poi coincido qua, per un ribasso, ma andiamo a vedere, per questo dico, adesso dobbiamo aspettare, poi nel momento in cui, si genera un segnale, tra da facendo, sui tempi inferiori, si prendono tutti i segnali, di questo mondo, non sul daily, cicchicamente sul daily, si entra una volta qui, e una volta qua, finito, per quello che, quando faccio la mia analisi, spesso, dico, adesso non andiamo in attesa, una volta che il mercato è invertito, poi sono, come si dice, affari vostri, l'entrare a mercato, scegliendo dei time frame, un po' più bassi, qua dentro, il Giovanni ha fatto, quasi mille punti di rialzo, ma lui è entrato qua, ok, in intraday, in realtà, cioè, con un time frame più basso, no, lui è entrato qua, con un time frame più basso, si poteva entrare, sicuramente, anche strada facendo, ma non sicuramente dopo, questo, ok, significa attendere, andiamo a vedere, trading view, quindi DAX, che non lo trovo più, ah di qua, allora, vedete che manca più, sui future, manca più strada da fare, esatto, per il quanto riguarda il future, mancano, 300 punti qua, invece siamo arrivati, sul cash, siamo assolutamente arrivati, ne mancano 20, 90, quindi, se guardiamo il cash, non è massimo assoluto, se guarderemo il future, mancherà ancora della strada, quindi, cosa dobbiamo fare, utilizzo il future, perché è il più scambiato, naturalmente, ok, ovvio, qui entro long, qui ci sta, perché potremmo, sul future, potremmo arrivare qua, anzi, è abbastanza probabile, di certo non c'è nulla, ma che il mercato, possa arrivare qua, ci sta, e in realtà, se guardiamo gli swing, c'è anche ancora spazio, vedete che si è fermato, esattamente, sul livello volumetrico, che io ho segnato, al di là di quello che può essere, un profile, che ci dava il livello qua sotto, mi avevo detto, il livello giusto è questo, non è questo, il profile, attenzione, signori, il 50% delle volte, essere generosi, che un livello del profile tenga, i livelli corretti, si estrapolano, tutta, in un'altra maniera, rispetto a un volume profile, ricorditelo sempre, questo concetto, perché è fondamentale, da conoscere, quindi, primo target, unico target, dopodiché, ci si deve fermare, per il mio conto, long 16730, oppure, rialzo, rottura della trendline, nel 5-10 giorni, che abbiamo visto anche prima, chiusura qua sotto, due scenari, entro diretto, oppure, sono un po' un fifone, il sottoscritto, aspetto questo, magari perdo il treno, o comunque aspetto questo, in intraday, andiamo a vedere su un 4 ore, ma dubito che ci sia un'opportunità, perché le medie sono molto lontane, come siamo posizionati, rispetto alle medie, vedete che qua, stava per, poter generare, già un segnale di ribasso, non l'ha mai fatto, guardate anche su 4 ore, ecco, su 4 ore, non vi spiego nulla, ha generato diverse opportunità, di ingresso al mercato, in questo caso, se vogliamo aspettare uno short, io devo aspettare che vada sotto, e potrebbe venire qua, un po' di lateralità, consenterebbe le medie di avvicinarsi, rottura, ritest, e si entra, sempre meglio aspettare uno swing, quantomeno intero, ho ripeto, i coraggiosi potranno entrare direttamente, su rottura della treline cicca, e rottura, del livello di supporto, 16.360, a mio avviso, attendere, una conferma, è sicuramente meglio, poi diamo i volumi, volumi in, in diminuzione, dal resto, è sempre sceso, tranne, vedete, sono sempre, vediamo qua, volumi in totale crollo, con un mercato che saliva, qui invece abbiamo avuto, una bella accelerazione, adesso una sorta di, di distasi, quindi il mercato è totalmente long, cosa che qua, gli operatori, non so quali fossero, in questo caso, abbiamo anche, abbiamo avuto un bel supporto di volume, e quindi, quindi, dovremmo vedere, magari aspettare un calo di volume, perché ci dico, oppure una forte accelerata di volume, l'ABC del volume è quello, e comunque, quando il mercato inizierà a invertire, dovremmo avere, un supporto volumetrico, qui un piccolo campanello, ce l'abbiamo, il volume è comunque in calo, con un mercato che è salito, quindi, qualche indizio, di un possibile rallentamento c'è, vuol dire che il mercato girerà, no, e personalmente, è meglio attendere, una conferma, è stata un'analisi lunga, però secondo me, un'analisi molto, molto bella, e direi anche, istruttiva, fatemelo sapere sotto, nei commenti, e buon weekend, tra poco farò l'analisi del MIB, ciao ciao, un abbraccio,